Un chilo di MDMA, meglio conosciuta come la droga dello stupro, sequestrata dai carabinieri del comando provinciale di Chieti. Tre uomini di nazionalità bulgara agli arresti, ma si pensa che il giro criminale sia molto più vasto. Nuovi alle forze dell'ordine italiani, quindi mai conosciuti, essi pensano che facessero la spola tra il loro paese e l'Italia per spacciare questa pericolosissima sostanza. Sicuramente la quantità ci fa apprezzare a uno smercio più diffuso di questa sostanza che molte volte viene diciamo celata pure sotto forma di pasticche e quindi comunque la nostra attenzione rimane sempre alta. 5.000 dosi per un giro d'affari di 150.000 euro destinato probabilmente all'ambiente universitario. Gli uomini sono stati intercettati nei pressi del casello di Brecciarola a bordo di un'auto di grossa cilindrata. La droga era stata nascosta da uno dei tre legandola al proprio addome con del cellofane completamente ricoperta di grasso per coprire il forte odore acre. È un ingente quantitativo, quindi sicuramente erano a un grado abbastanza alto della catena dello spaccio e poi comunque qui a Chieti o ai dintorni dovevano incontrare il loro pusher che poi avrebbe smerciato sul territorio italiano. Come abbiamo visto loro abitavano in un abbergo di fiumicino, alloggiavano per adesso e quindi dopo aver fatto la consegna sicuramente sarebbero ritornati a Roma. Tra le scoperte dei carabinieri è anche l'alta percentuale di principio attivo presente che in quelle percentuali se assunta insieme ad alcol avrebbe potuto causare veri e propri shock fisici compresa la morte. Siamo fortunati a Chieti perché abbiamo il laboratorio di sostanze superfacenti che serve tutta la regione e il Molise e quindi abbiamo fatto delle indagini speditive e diciamo che il principio attivo di metanfenavina era altissimo. Chi assume questa droga chiamata comunicamente l'estasi poi può avere danni permanenti celebrali o addirittura può causare la morte. Gli arrestati dovranno rispondere del reato di detenzione e traffico di droga. Gli arrestati dovranno rispondere del reato di carabinieri.